Buongiorno, ben trovati venerdì 15 novembre 2019, il nostro consueto appuntamento come ogni mattina con la rassegna stampa, mattino 6 che si apre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, iniziamo con le edizioni provinciali, partiamo da quella di Pescara per vedere il titolo di apertura, eccolo qui inquadrato, si parla di commercio, il comune propone negozi aperti la notte a Pescara, proposta per rilanciare il centro cittadino, i commercianti d'accordo ma solo sotto il periodo di Natale. E poi la tragedia di Caramani con i coniugi morti nel fiume Orta, Parco e Comune risarciscono i due figli. E poi oggi a Cepagatti una giornata importante perché ci sarà la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che inaugurerà l'elettrodotto che collega l'Italia con i Balcani. Vediamo le altre notizie, dopo le mareggiate danni alla costa, la regione paga ma si indebita e poi muore a 31 anni il lutto cittadino a San Valentino, la scomparsa di un giovane informatico. E poi il calcio parla il difensore del Pescara Ciofani, atleta di Cristo, prego e inseguo la Serie A Pescara che osserverà un turno di riposo come tutte le formazioni del campionato di Serie B. C'è la sosta infatti del torneo per gli impegni delle nazionali biancazzurri che torneranno in campo venerdì prossimo 22 novembre alle 21 allo Stadio Adriatico con la Cremonese. Vediamo le altre notizie, Angelin sta male, non va in carcere, l'imprenditore è stato condannato in via definitiva a nove anni ma resta ai domiciliari. Consiglio regionale e protezione civile parte l'iter per la costituzione dell'agenzia e poi mancano i custodi nei musei, tagli ad orari e giorni di apertura. Vediamo la prima pagina di Chieti, Lanciano Vasto del centro, siamo a Chieti, buco in comune, parte l'inchiesta, la Corte dei Conti indaga su 1 milione e 200 mila euro di interessi pagati alle banche. Vediamo le altre notizie, Vasto per le tangenti al cimitero in 18 verso il processo e poi Lanciano in 4 con Fratelli d'Italia parte la corsa a Sindaco nella città frentana. Andiamo a vedere la prima pagina di Teramo, sempre dalle colonne del quotidiano Il Centro, in questo caso il titolo di apertura riguarda l'allarme mareggiate per le nuove mareggiate che potrebbero esserci nelle prossime ore. I bannatori temono danni peggiori, altri 2 milioni dalla regione, soprattutto il Teramano colpito da queste violente mareggiate che hanno flagellato le nostre coste. Mobilitazione a Nereto, si teme l'inquinamento da Liquamin, 400 sfilano contro l'impianto della Wash. E poi istituzioni cittadine, trattative per la nomina a Teramo di tre presidenti e sempre a Teramo una perizia per l'aggressore del parcheggio. E poi scossa di terremoto, sgomberate tutte le scuole, Montorio, alunni fatti uscire all'aperto, i genitori basta ritardi, ora costruite il nuovo polo scolastico. E poi Silvi, il comune, mette all'asta 14 case popolari. Vediamo anche la prima pagina di L'Aquila, Avezzano, Surmona, sempre del centro. Piano scuole, protesta all'emiciclo, siamo all'Aquila, studenti, docenti e genitori, no al piano di dimensionamento. E poi ad Avezzano, convegno al Galilei con il vicepresidente della Lega Pro, anche l'attrice Capotondi, Capotondi, plaude alle abruzzesi del calcio femminile, alle giocatrici abruzzesi della nazionale italiana femminile di calcio. Avezzano elezioni, la Lega svela le prime carte sui candidati e poi Capitignano scossa di 3.2, torna la paura nell'Aquilano. E poi a Tagliacozzo, siamo nella Marsica, studentessa investita dall'autobus, tragedia sfiorata, il piede della sedicennia rimane incastrato sotto una ruota. E poi l'Aquila, incontro con i ragazzi, reggbiste a scuola, prima del match Italia-Giappone. Andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto abruzzo del messaggero, niente carcere per Angelini, il tribunale accorda per 12 mesi la detenzione domiciliare all'ex re della sanità privata, condannato in via definitiva a 8 anni per la bancarotta, la decisione per motivi di salute. Poi vedete, spiagge devastate, primo intervento urgente della regione. E poi l'Aquila, politica e cartier, sentenza contro un imprenditore. E poi la scommessa, buono italiano con De Cecco, cresce la filiera del grano duro. Andiamo più in basso, volano gli incassi, feste di Natale grazie alle multe, a Pescara il Comune trova la soluzione per finanziare luminarie e manifestazioni. E poi Movida Violenta, giovani pestati in piazza, genitori e fratelli. Vediamo anche in alto il ponte dell'energia Italia-Montenegro, Mattarella-Pescara per inaugurare l'elettrodotto. E poi Voci d'Abruzzo, si è spento a Medio Esposito, decano del giornalismo e poi il calcio di serie B. Delfino è ormai fatta per la punta, Charpentier arriva dall'Avellino, ha messo a segno 5 reti e può tornare utile. Intanto Brunori si gode il Magic Moment, contano le vittorie, non i gol personali, ha detto l'attaccante del Pescara. Vediamo anche la prima pagina del quotidiano, la città 12 in Lizza per la presidenza dell'Istituto Zoo Profilatti. Vedete il titolo di apertura, la Regione Abruzzo si prepara a scegliere il nuovo consigliere destinato al vertice dell'Istituto Ambiente. La valvibrata sfila compatta contro la piattaforma per rifiuti liquidi. E poi in alto, vedete, il rapporto eduscopio della Fondazione Agnelli, la migliore scuola superiore della provincia e il liceo Einstein. Vediamo poi più in basso la Regione con il presidente Marsiglio stanza, 3 milioni e mezzo di euro di fondi extra per l'emergenza amareggiata. E poi allerta meteo da questa mattina, altre 36 ore di maltempo con un aumento delle temperature. E poi Civitella del Tronto, badante licenziata, non voleva lasciare l'abitazione dell'assistita. E poi Giulianova Blitz di Polizia La Rocca, in manette un pusher di cocaina e una ladra. Roseto degli Abruzzi, connessione wifi gratis per i rosetani, grazie ai sei punti d'accesso del comune. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, andiamo a vedere l'edicola nazionale, partiamo come di consueto con il Corriere della Sera. Lasciamo l'Ilva, Mittal a fine anno chiude gli altiforni, il governo al contrattacco presenta un ricorso d'urgenza. E poi vedete Venezia sommersa, dieci giorni fa bloccati i test. Vedete questa foto con il salvataggio di tanti volumi dall'acqua, il giallo svelato del Mose. E poi la sentenza, Cucchi, fu un omicidio, 12 anni, ai due carabinieri, la sorella ora è in pace, dice la sorella di Cucchi, il baciamano del militare. Vediamo anche Repubblica, Bologna che resiste, oltre dieci mila persone in piazza maggiore sfidano il leader leghista Salvini che fatica a riempire il Paladozza. E poi la sentenza Cucchi, finalmente Stefano può riposare in pace, 12 anni e due carabinieri per l'omicidio alla sorella, il baciamano di un maresciallo. E poi Venezia come Notre Dame, il mondo deve aiutarla. Vediamo anche il fatto quotidiano, facce da Mose, vedete questo è il titolo, Venezia gli scarica Barile. E poi prima sentenza, Cucchi, condanne per due carabinieri, quattro medici prescritti e insulti da Salvini, scrive il fatto quotidiano. Vediamo poi in basso, Lombardia buon governo di destra, dentro la Comi è l'uomo di Giorgetti Libero, il potere romano se ne frega del nord, Venezia vittima dello Stato, scrive Libero in questo titolo. E poi, vedete più in basso, ritroviamo un titolo che abbiamo visto poco fa, la Comi arrestata per corruzione e casini vari, Lara ne ha combinate di tutti i colori. Questo è l'altro titolo del quotidiano Libero. Andiamo in basso per trovare anche qui la notizia della sentenza sul caso Cucchi, il processo Cucchi, per Cucchi due carabinieri condannati a 12 anni a sentenza sui militari che causarono la morte del ragazzo. Vediamo anche il prossimo titolo che è quello del giornale, esecutivo immobile, il governo non fa niente, parola di Zingaretti, l'attacco del segretario PD fa tremare Conte e i Cinque Stelle. E poi Berlusconi a Venezia, subito fondi e lancia Brugnaro, leader nazionale. Vediamo anche il manifesto, allerta rossa per Venezia sottacca, questo è il titolo nella parte alta della pagina, il governo dichiara lo stato di emergenza, arriva una supercommissaria, si contano i danni. E poi è stato ucciso, questo è il titolo che riguarda il processo Cucchi, omicidio preterintenzionale per la morte di Stefano Cucchi, condannati a 12 anni di reclusione i due carabinieri picchiatori, punito per falso il militare testimone delle torture, il maresciallo che ha coperto i depistaggi. La verità, dieci anni dopo, ma Salvini non chiede scusa, scrive il quotidiano, il manifesto. Il messaggero nazionale, Ilva, chiusura appesa ad un filo, Taranto a Pietà Gennaio, l'impianto sarà spento, ultimo spiraglio, un vertice, Conte, Mittal. E poi lo scandalo del Mose, lo specchio della politica, vediamo poi a centropagine, centropagine, Dighe salva Venezia, ferme da 5 anni, poi Cucchi condanna a 12 anni per due carabinieri. Andiamo a vedere il mattino di Napoli, Napoli il caso segre, il nuovo assessore De Maio dopo le frasi antisemite propone la cittadinanza, la senatrice è un'onorificenza, non passeggera, non va strumentalizzata. E poi salva Venezia, lavori fermi da 5 anni dal nord alla Campania, l'Italia fragile. E poi la linea dura della Mittal, l'Ilva, chiude a gennaio. Vediamo anche la verità, arriva pure la tassa sugli immigrati, ci costerà 160 milioni di euro, scrive la verità. E poi uso esperto di schemi criminosi, arrestata l'eurodeputata Comi. E poi gli scoop su Mifsud scuodono gli USA, la link di Scotti finge di cadere dalle nuvole, questo è un altro titolo del quotidiano, la verità. E poi in basso, Papa Bergoglio scomunica il sistema bibbiano, Francesco ha chiesto di ripubblicare il libro sullo scandalo nella bassa modenese. Vediamo anche il sole 24 ore, Mittal spegne l'Ilva, balzo dello spread. L'Alto Forno sarà fermato il 13 dicembre, l'Alto Forno 2, l'Alto Forno 1, l'ultimo il 15 gennaio del 2020. Emergenza a Venezia, il governo stanza i primi 20 milioni di euro. Vediamo anche la stampa di Torino, Conte subito un patto tra enti locali e governo per proteggere Venezia. E poi Mittal due mesi per spegnere l'Ilva. E poi l'antisemitismo minaccia ogni cittadino, questo fondo del quotidiano la stampa, sugli attacchi alla senatrice a vita, Liliana Segre. Poi omicidio Cucchi, due carabinieri condannati a 12 anni. Vediamo anche il tempo, presa la banda di Maduro a un attico in via Condotti. E poi Di Maio Lepuratore, chi mi rema contro? Può andarsene, polemica all'interno del 5 Stelle. E poi il secolo.it, voci dal PD, votare, deputati stufi dell'indecisione di Zingaretti, stretti nella morsa di Matteo Renzi e dei grillini. Vediamo anche avvenire, quotidiano della CEI, mai bimbi violati. Francesco chiede accesso sicuro dei minori alle nuove tecnologie con una crescita serena. E poi Venezia vuole subito rialzarsi con l'incubo della nuova onda. E poi vedete anche su avvenire, nella parte bassa della pagina, Cucchi e due carabinieri, 12 anni per omicidio. Quattro condanne, medici assolti. Questo era l'ultimo quotidiano, l'avvenire dell'edicola nazionale. Noi possiamo tornare al centro, pagina 2, le grandi opere. Mattarella Cepagatti oggi accende il ponte elettrico Italia-Balcani. L'edetto adotto costato oltre un miliardo di euro, il lungo 445 chilometri è stato realizzato dalla società Terna. L'avvio sarà dato in contemporanea dal capo dello Stato e dal presidente del Montenegro, Giucanovic. E poi Agroindustria, la De Cecco incrementa la filiera italiana del grano duro. E poi soldi per le mareggiate, la regione si indebita. Marsiglio stanzi, altri 2 milioni senza copertura. La situazione è troppo grave, costa anche l'Abruzzo dentro i cambiamenti climatici. Ecco le aree a rischio. Allora possiamo andare a vedere a questo punto il primo servizio che fa il punto proprio della situazione dopo le mareggiate delle ultime ore. situazione complicata, difficile soprattutto sul litorale Chietino e anche nella zona del Terramano, i comuni più colpiti, Pineto, Alba Adriatica, Francavilla e Casalbordino. Allora andiamo a vedere il servizio curato da Giuseppe Dintino. La regione Abruzzo chiederà 50 milioni allo Stato per le opere di tutela delle coste abruzzesi. Marsiglio ha preparato un emendamento alla legge di bilancio, in agenda oggi alla Commissione del Senato, affinché venga accordata la somma alla nostra regione nel triennio 2020-2022. Inoltre il governatore ha annunciato che stanzierà 2 milioni di euro per gli interventi più urgenti. Questi si aggiungeranno al milione e mezzo, già previsto contro l'erosione prima di quest'ondata di maltempo. Gli interventi risolutivi, invece, saranno molto più costosi. Stiamo cercando, insieme ai comuni, i sindaci coinvolti, di cercare la soluzione migliore, anche in un'ottica di rimodulazione dei fondi che i comuni già avevano assegnati. È un lavoro non semplice, ma la mia idea è quella di finirla con gli interventi spot, che poi alla fine non servono a nulla e che poi sono soltanto uno sperpero di denaro pubblico. Occorre invece una programmazione seria, che noi come Regione Abruzzo abbiamo, e bisogna investire in questo senso, con interventi definitivi che poi possono garantire la sicurezza dei nostri cittadini. Rimane il fatto che la costa abruzzese è totalmente devastata da nord a sud. La situazione più critica è dal Badriatica, dove il mare ha scavato la terra sotto gli stabilimenti e invaso le rotonde del lungomare. Il sindaco, Antonietta Casciotti, ha vietato l'accesso in tutto l'arenile della foce del Vibrata e chiederà lo stato di calamità naturale. Anche a Martinsicuro parte del lungomare è stato chiuso. Qui l'acqua è riuscita a sradicare anche le panchine. A Villardente le mareggiate hanno alzato la carreggiata della ciclabile, mentre il sindaco di Pineto, Robert Verrocchio, ha chiesto lo stato di emergenza. A Roseto e Silvi la spiaggia è praticamente scomparsa. Il sindaco di Francavilla, Antonio Luciani, ha convocato per oggi una riunione straordinaria della maggioranza e ha invitato i rappresentanti della regione a recarsi in loco per un sopralluogo. Questa è la situazione a Casalbordino. Anche qui della spiaggia è rimasto ben poco. Sulla questione è intervenuto anche il presidente regionale del sindacato dei balneatori. Vogliamo dire una cosa ad alta voce. Alla regione Abruzzo ci sta 100.000 metri cubi di materiale fermi nella vasca di Colmata, nel porto di Pescara. Quelli sarebbero utilissimi adesso per tamponare questo problema. Siccome quel materiale è stato analizzato idoneo per sversarlo in mare, non capiamo perché dallo scorso anno stiamo ringorrendo chi lo deve fare e chi non lo deve fare. Quel materiale si può portare anche da terra verso mare. Allora facciamo una cosa, dateci a noi la disponibilità di operare, dateci a noi il finanziamento, ci organizziamo noi e sicuramente riportiamo un risparmio alla regione Abruzzo. Secondo il comitato Dune e Bene Comune invece, ora è il tempo delle lacrime di Coccodrillo. La costa abruzzese è tra le più cementificate in Italia e secondo uno studio dell'Enea, tra quelle più a rischio. Questo a dimostrazione di quanto lo zampino dell'uomo sia determinante anche a proposito di calamità naturali. Dove infatti non sono state spianate le dune, come Abbasto o Ortona, la spiaggia è sopravvissuta. Occorrerà quindi impedire la costruzione di nuovi stabilimenti balneari. Andiamo avanti, parte l'iter per l'Agenzia di Protezione Civile, vedete il titolo, Consiglio regionale in commissione, l'esame della proposta di legge. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle, il Consiglio regionale Sara Marcozzi, dice Comuni in ritardo sui piani. E Doglioni spiega i meccanismi all'origine dei terremoti. Il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, martedì sarà presso il Gran Sasso Science Institute di L'Aquila. Andiamo avanti, parliamo di musei, musei senza custodi, chiusure e orari ridotti. Penalizzate le strutture di Chieti, Campi, Popoli, Castiglione, Celano e Sulmona, si salva solo Pescara, la direttrice Lucia Arbace dice c'è una grave carenza di personale. Lega Copp presenta il nuovo piano di azione territoriale al Museo Cascella a Pescara e poi in basso Transumanza, studiosi a convegno, l'UNESCO valuta se riconosce dei tratturi patrimonio dell'umanità. Siamo alle cronache dalle province, i piani del comune di Pescara, negozi aperti fino a mezzanotte, così rilanceremo il commercio. La ricetta dell'assessore cremonese per una città bella ed elegante, com'era negli anni Ottanta, soddisfatte a metà le associazioni di categoria, orario più lungo soltanto d'estate o sotto le feste di Natale. Liceo musicale, Noa Villa Fabio, il consiglio d'istituto del Misticoni Berisario, boccia il trasferimento nell'ex scuola. Opere pubbliche, il nuovo piano del comune, strade, piste, ciclabili e parchi. Ecco i lavori che partono nel 2020. La delibera varata dalla Giunta contiene l'elenco di tutti gli interventi da realizzare. Recuperati nel bilancio i soldi per luci e spettacoli di Natale, l'amministrazione comunale a Pescara stanzia 280 mila euro. La tragedia del 2017 nel fiume Orta, negati marito e moglie, verso l'intesa per il risarcimento ai figli minori. Domani mamme in piazza per una movida sicura, ancora Pescara, dopo il pestaggio di un ragazzo in Via Piave, organizzata una manifestazione lungo le strade del divertimento. Il corteo partirà alle 16.30 da Piazza Salotto. Salotto, imprese e innovazione, evento all'Aurum, universitari in gara, sfida a chi supera i problemi, da azienda, riconoscimenti di Confindustria a Barbarossa e Casoli, premi start-up e progetti che valorizzano il territorio. Cronaca, maxi sequestro di gasolio della Guardia di Finanza a Pescara, Montesilvano, la città che cambia i progetti. Anfiteatro al posto del Teatro del Mare. Entro 180 giorni la variante del piano regolatore che il Comune ha affidato all'architetto del D'Annunzio, Lucio Zazzara. Ieri la presentazione da parte dell'amministrazione comunale appunto del nuovo piano regolatore ne ha parlato ai nostri microfoni il Sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, che andiamo ad ascoltare. Sindaco, quali sono le novità del piano regolatore di Montesilvano? Intanto il nuovo piano regolatore che vogliamo regalare alla città sarà una grandissima novità per il nostro territorio dopo 21 anni. Noi abbiamo messo al centro del nostro programma elettorale la realizzazione di un nuovo piano che la città chiede a viva voce nella misura in cui noi abbiamo una città carente in alcuni aspetti e questo nuovo piano regolatore potrà prevedere appunto una nuova vita per il territorio. Una nuova vita che sicuramente sarà concretizzata con la previsione di nuovi spazi verdi spazi vivibili per la nostra città una città che vuole avere una visione attrattiva da un punto di vista turistico quindi ragioneremo degli spazi vitali da questo punto di vista ovviamente ragioneremo anche degli spazi dediti da dedicare alla cultura, agli eventi e non a caso abbiamo intenzione a breve di riprendere l'idea di un anfiteatro in zona turistica sul lungomare un lungomare che dovrà essere sicuramente riqualificato come riqualificato e reso più attrattivo dovrà essere il nostro meraviglioso borgo di Montesifano Colle che abbiamo idea appunto di rendere più attrattivo e di dotare di parcheggi come detto in campagna elettorale non prevediamo ulteriore occupazione di suolo pubblico ma lavoreremo sulla riqualificazione dell'esistente ragioneremo una viabilità cittadina innovativa abbiamo già iniziato un percorso di bike sharing nei giorni scorsi e vogliamo continuare su questa lunghezza d'onda in considerazione anche del fatto che a breve il nostro territorio avrà delle novità sostanziali nella misura in cui partirà un mezzo che attraverserà la cosiddetta strada parco e quindi accelererà i tempi di percorrenza per Scala-Monte Silvano ma anche il nuovo ponte che a breve verrà inaugurato darà alla nostra città una viabilità diversa sulla base di questo ragioneremo anche un piano urbano del traffico di cui la città è assolutamente carente di cui la città ha bisogno e ultimo ma non ultimo noi ragioneremo il centro cittadino qualificato, riqualificato è reso molto più attrattivo e vivibile per dare alla città un'anima che oggi nel centro cittadino non ha tutti aspetti che, ripeto da tempo i cittadini chiedono e tutti aspetti che noi vogliamo finalmente dare alla nostra Montesilvano Restiamo a Montesilvano famiglia abusiva sfrattata dopo 19 tentativi in alloggio dell'Ater liberato in via Rimini adesso restano 4 case occupate senza titolo di questo si parla nell'articolo in basso a pagina 27 San Valentino dà l'addio al suo giovane informatico oggi funerali di Enrico Chiacchia morto a 31 anni programmato il lutto cittadino ferita da una pietra sotto al ponte donna in ospedale ieri sera il fatto è accaduto a Montesilvano e amici della bici premiati dal comune di Montesilvano cerimonia Palazzo Baldoni con 40 giovani ciclisti parte la polizia dell'Alento per evitare inondazioni siamo a Francavilla al mare lavori per togliere sterpaglie e rifiuti dal tratto di fiume che costeggia Francavilla arrivano 116 mila euro dal genio civile San Francavilla bandiera verde al comune che è stato premiato per le iniziative per ambiente e turismo siamo a penne i giudici uccise l'ex maresciallo senza pietà merita l'ergastro l'omicidio di penne così la Cassazione rigetta il ricorso di Gian Caterino la condanna diventa definitiva per l'anziano una morte atroce telecamere testimonianze macchie di sangue incastrano il killer proseguiamo siamo alla pagina di Chieti del centro Angelini è malato evita il carcere domiciliari almeno per un anno la condanna per bancarotta è definitiva i giudici confermano la detenzione nella villa di Francavilla può uscire solo un'ora al giorno la difesa è una decisione giusta in linea con la tutela della salute andiamo avanti con un'altra pagina restiamo sempre a Chieti inchiesta a Chieti per quanto riguarda il comune si muove la corte dei conti la procura erariale indaga sul buco del comune finiscono sotto accusa gli interessi per un milione e duecentomila euro pagati alla banca tesoriere contestato il continuo ricorso all'anticipazione di cassa costi troppo elevati vediamo poi più in basso Chieti assegni la cittadinanza alla segre e la proposta di cinque consiglieri comunali di centrodestra così teniamo viva la memoria Teramo trattative convulse per la nomina di tre presidenti istituzioni cittadine cambiano gli assetti fondazione Tercas lunedì si decide la maggioranza nel consiglio di indirizzo potrebbe votare Mancini al posto di Salvatore all'adusus punta di Giacinto di Fratelli d'Italia la regione Berardinelli ineleggibile zooprofilattico si tratta in due per una poltrona proseguiamo siamo alla pagina della provincia di Teramo Silvi il comune mette all'asta 14 alloggi popolari Atri di Scarica Santa Lucia e il comune incontra il presidente Marsilio Atri strada chiusa la provincia accelera la 553 bloccata da una frana da sei anni ancora Atri corse tua tagliata il sindaco tutelare le aree interne siamo alla pagina dell'Aquila le spine del post sisma no al piano scuole protesta davanti all'emiciclo studenti docenti e genitori contro il dimensionamento deciso dal comune che entrerà in vigore il prossimo anno la proposta cittadinanza a Segre anche all'Aquila nuovi consensi in città andiamo ancora avanti siamo nella Marsica a Tagliacozzo momenti di paura studentessa investita da un autobus nella calca del mattino al termine dei pulmi alla sedicenne è rimasta incastrata con il piede sotto una delle ruote del mezzo vediamo ancora giovane va a processo per violenza alla ex Avezzano la 25enne romena lo aveva lasciato e lui l'aveva costretta ad un rapporto sessuale andiamo in basso sul mona potenziamento dell'ospedale reparto di medicina otto in corsa per un posto di primario siamo arrivati alle pagine dello sport allora possiamo fermarci per qualche istante tra poco torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6 andremo a vedere insieme le pagine interne dell'inserto abruzzo del messaggero e del quotidiano la città di nuovo in studio seconda parte di mattino 6 siamo le pagine interne dell'inserto abruzzo del messaggero pagina 2 parliamo ancora di danni nella nostra regione per le emareggiate l'ondata di maltempo subito 3 milioni e mezzo di euro per i danni Marsilio lo ha annunciato alle commissioni per gli stanzamenti urgenti e poi poltronissime si parla del dopo luci 15 nomi in corsa per la presidenza del corecom il più quotato e chiavaroli l'urbanistica in 50 articoli proposta dell'inu per la nuova legge siamo a Pescara le multe dei vigili pagano il Natale entrate record per un milione e mezzo negli ultimi due mesi grazie al giro di vite sulla sicurezza alcol test cinture telelaser l'assessore seccia trovati i 100 mila euro per luci d'artista e per altre risorse ma incombe il rischio di una Tari più salata università l'università vista mare l'Ateneo vuole anche la piattaforma offshore accanto alla partita per l'ex COFA trattativa in corso con la regione per rilevare il vecchio allevamento ittico Italia Montenegro Mattarella inaugura l'elettrodotto vedete il titolo in basso il presidente della repubblica alle 11 a Villanova l'avvio dell'imponente infrastruttura non frena le proteste un corteo in centro siamo a Pescara per dire basta alla movida violenta dove il pestaggio di un giovane e ancora cronaca spaccate seriali finisce in carcere dopo l'evasione dai domiciliari blitz della finanza gasolio di contrabbando nei guai fornitore benzinaio e trasportatore bufera al Paolo VI siamo sempre a Pescara fuori anche Farina quella del direttore amministrativo è l'ultima testa a cadere la Cisli in campo a difesa dell'ex segretario andiamo avanti per vedere la prossima pagina del messaggero siamo a quella la pagina dell'area metropolitana di Pescara Montesilvano città più vivibile con il nuovo piano regolatore abbiamo visto prima il servizio con l'intervista al sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis tragedia nel fiume coniugi annegati nel fiume Orta in arrivo il risarcimento per le parti civili e poi Montesilvano coppia di abusivi sgomberata dalla casa popolare linea dura e poi anche sul messaggero ritroviamo la notizia del lutto familiare a San Valentino che piange la scomparsa prematura di Enrico Chiacchia andiamo a vedere la pagina dell'Aquila del messaggero la morte di Amedeo Esposito protagonista dal dopoguerra biondi una grave perdita ma sopravvivono i suoi scritti i suoi insegnamenti ed il suo esempio detto il primo cittadino dell'Aquila l'acqua torna potabile nei comuni è rientrata l'emergenza idrica nell'Aquilano e poi ama e il giorno della verità in consiglio ieri a tal proposito vi avevamo proposto un servizio nel corso del nostro telegiornale in basso un cartier per corrompere condannato e poi Valle dell'Aterno scossa di magnitudo 3.2 avvertita fino in città piano scuole si leva il coro del no manifestazione pacifica davanti al palazzo dell'emiciclo oggi il verdetto del tavolo interistituzionale regionale sovrintendenza a rischio gli architetti si mobilitano e poi impianti nuovi spogliatoi per il basket e si sblocca lo stallo per la palestra di piazza d'armi e poi vita di club soroptimist pompa nuovo presidente e poi centro sallustiano conferenza sulle gioie del mondo romano siamo la pagina di Avezzano e sul Mona partiamo dalla Marsica ad Avezzano trasporti un morto e una ragazza grave il treno per la Marsica investito nuovo che stava attraversando la ferrovia altro incidente a piazzale Kennedy il drammatico racconto dei passeggeri nella notte di paura trascorsa sui binari e quello del bus degli studenti e pendolari Marsica ancora violenza carnale un rinvio a giudizio e poi sul Mona fiumi di droga in città scattano arresti e denunce sul Mona consorsi di bonifica Italia Viva attacca la consigliera regionale Marianna Scoccia e poi Lifoundri Avezzano la CISL parla di situazione ormai allo sbando Chieti Angelini evita il carcere per la bancarotta di Villapini l'ex magnate a gravi problemi di salute almeno per un anno sarà detenuto in casa è stata accolta l'istanza presentata dall'avvocato Supino decisione dice la difesa in linea con la costituzione Ciocco Festival la città è capitale per tre giorni della cioccolata e poi Teatro Maruccino ecco la graduatoria dopo il concorso e poi ancora verso la cittadinanza onoraria di Chieti alla senatrice a vita Liliana Segre siamo la pagina della provincia di Chieti partiamo da Lanciano violenza sulle donne reati in crescita vasto emodinamica c'è ma il reparto salva vita è solo sulla carta ancora vasto due auto a fuoco davanti al commissariato Eddolo a Lanciano maratona per proposte culturali infine Ortona comunità di recupero festa per i suoi 35 anni siamo alla pagina di Teramo del messaggero terremoto economia a picco fondi per le micro imprese a Castelli alcuni ceramisti lavorano in una struttura di legno a rischio sfratto a valle Castellana allevamenti messi K.O. a Torricella commercianti in municipio siamo a Teramo il dibattito per la gammarana serve un percorso ciclabile notaresco Tudisino rubauto rintracciato col GPS e poi aggressione al parcheggio chiesta perizia psichiatrica usura bancaria assolti tutti i vertici della BCC dell'Adriatico andiamo a vedere la pagina della provincia di Teramo partiamo da Giulianova droga e furto due arresti in città doppia operazione della polizia ancora Giulianova insulti razzisti contro una cestista Valvibrata crisi fonderia veco domani assemblea con i sindacati tornando a Giulianova all'ospedale ecco i fondi per i reparti di allergologia e per il reparto analisi e poi Civitella non viene assunta come badante e sfascia tutto Valvibrata aveva un bazar di documenti preso vediamo le pagine dello sport in sequenza però prima di parlare di sport dobbiamo andare a vedere invece le pagine interne del quotidiano la città ripartire da pagina 5 per la cronaca regionale Angelini va ai domiciliari per un anno il grande accusatore della Sanitopoli deve scontare otto anni ma resta a casa per motivi di salute poi Capitignano scossa di terremoto di magnitudo 3.2 sentita distintamente anche nel Terramano istituzioni anche la lungodegenza di Santomero nel consiglio regionale che si terrà il prossimo martedì presentato l'ordine del giorno della seduta urgente dove si discuterà anche di Fucino Scuola e Giova Beach Party protezione civile quasi tutti i comuni senza piano di emergenza la denuncia del capogruppo in consiglio regionale del Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi sono 278 ha detto la Marcozzi gli enti che non lo hanno ancora aggiornato nessun rischio disimpegno per i fondi dell'edilizia sanitaria le rassicurazioni dell'assessore alla sanità regionale Nicoletta Verì in basso fondi comuni per realizzare parchi giochi inclusivi l'annuncio dell'assessore Fioretti sul contributo straordinario da 300.000 euro 12 candidati in lizza per la presidenza dell'istituto zooprofilattico caporale di Teramo la regione Abruzzo a breve provvederà alla nomina del componente designato ad assumere il vertice del consiglio di amministrazione sanità autobus per il consiglio congiunto sull'ospedale lunedì il confronto fra Teramo e l'Aquila sul DEA di secondo livello previsto dal 2021 eduscopio l'Einstein la migliore scuola superiore pubblicato i risultati della ricerca annuale della fondazione Agnelli sulla qualità degli istituti scolastici andiamo avanti sempre a Teramo si parla di gammarana serve coerenza urbanistica dopo i tre comitati e il consigliere Verna interviene anche l'associazione Teramo punto zero la segnalazione buche crateri abbandono a due passi da viale bovio e poi ancora l'università di Teramo si va a lezione d'impresa al via il secondo ciclo di SILAB il progetto dell'incubatore di start-up del MIUR scuola libriamoci letture ad alta voce al di poppa rozzi sempre a Teramo il calendario il fascino dei prati di Tivo in bianco e nero grande successo alla presentazione dell'edizione con le foto di Francesco Lorusso per ricerche e redazioni vedete nella pagina le foto della presentazione di questa iniziativa e a Teramo riparte il racconto della Pinacoteca Civica presentato il secondo ciclo di incontri sul patrimonio artistico e culturale della struttura museale decreto sisma bollette a rate per le micro imprese del cratere sismico e poi ancora mareggiata record ne parliamo anche dalle pagine del quotidiano della città arrivano altri fondi ma non basteranno la regione stanzia ulteriori 2 milioni per la messa in sicurezza il presidente Marsiglio dice serve l'intervento dello Stato il governatore ha poi aggiunto o autorizzato gli interventi senza la copertura finanziaria ma la situazione è troppo grave ambiente la val vibrata sfila contro la piattaforma per i rifiuti grande partecipazione al corteo di ieri mattina per dire no al progetto della Wash Italia alle porte di Nereto giorno per l'ambiente organizzato dal WWF appuntamento domani all'interno di Villa Flaiani ad Alba Adriatica in basso contro guerra città dell'olio un marchio anche per i ristoranti la proposta lanciata dal coordinamento regionale nel corso della prima riunione ancora pagina della Val Vibrata Civitella del Tronto badante licenziata non vuole lasciare la casa dell'assistita e poi Santomero via ai lavori al municipio nuovo impianto elettrico e sistemazione dei cornicioni pericolosi in basso ancora Civitella del Tronto incontro sul sistema economico locale con Salvatore Florimbi stasera nel borgo Terramano torna l'appuntamento con l'associazione Le Lunarie siamo alla pagina di Giulianova altri arresti nel centro di Giulianova uno spacciatore una ladra in manette dopo il blitz della squadra mobile centralino comunale nella sede della polizia municipale sempre a Giulianova e fondi dalla ASL per il reparto di allergologia e per il laboratorio analisi dell'ospedale di Giulianova borracce d'alluminio anche per gli studenti giuliesi l'annuncio del sindaco durante la visita in comune degli alunni della scuola Don Milani pagina della provincia di Teramo ancora siamo a Roseto degli Abruzzi mai più impianti sportivi a chi li danneggia la presa di posizione dell'assessore Tacchetti dopo la rottura delle porte negli spogliatoi di via Fonte dell'Olmo da febbraio lo sportello per le attività produttive sarà solo telematico l'assessore Orazio Vannucci dice la normativa non ci consente più di tenere in piedi le procedure in formato cartaceo in basso cinema teatro e multimedialità nelle lezioni dell'università della terza età l'anno accademico sarà presentato il 26 novembre nella sala consigliare al via i corsi dal prossimo 3 dicembre ancora Roseto connessione wifi gratuita per i rosetani sono 6 le postazioni individuate dall'amministrazione comunale Atri le corse verso le aree interne vanno tutelate la richiesta avanzata dall'amministrazione comunale di Atri alla tua defibrillatore di ultima generazione alla casa di riposo Santa Rita siamo sempre ad Atri la donazione è arrivata da parte della cooperativa La Clessidra della sua presidentessa Elena Volante pagina della cultura senza metà del cielo nel dorore nella luce Angelo Ferracuti racconta nel suo libro la perdita della moglie e il lungo cammino di rinascita siamo arrivati dunque all'ultima parte di mattino 6 con lo sport apriamo con le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali partiamo dalla gazzetta dello sport Juve su Giglio Donnarumma nel mirino della Juventus questa l'indiscrezione di mercato delle ultime ore Italia 6 da 10 in Bosnia con Gallo Belotti un erotest verità e poi tutti a Venezia ovviamente c'è questo fine settimana dedicato alle nazionali e poi Ronaldo va oltre Sarri show contro i Lutiani e selfie con l'invasore alla sostituzione abbraccia il CT Portogallo 6 a 0 e a un passo dall'europeo Corriere dello Sport Gieco dici che Italia è Zenica gli azzurri questa sera già qualificati sfidano la Bosnia dell'attaccante della Roma e poi Cristiano 7 vite Ronaldo Stabenone tripletta nel 6 a 0 del Portogallo alla Lituania tutto sport Matteo sei unico vedete il titolo in alto storico successo parliamo di tennis di Berrettini a Londra e poi è sempre lui questo è il titolo a centro pagina con Ronaldo che spazza via dubbi anzi e segna tre gol nella gara vinta dal Portogallo con la Lituania per 6 a 0 andiamo a vedere lo sport dalle pagine del quotidiano il centro anche in questo caso ripartiamo dalla nazionale azzurra di Mancini Mancini che carica l'Italia e lancia Belotti questo è il titolo stasera gli azzurri già qualificati giocheranno in Bosnia nella città di Zenica il CT mette nel mirino la decima vittoria di Fira abbiamo ancora fame dunque Italia che pensa al record e poi ritroviamo anche sul centro il titolo che riguarda lo storico trionfo di Berrettini sconfitto TM il 23enne romano il primo italiano a vincere un match alle ATP Finals di Londra vediamo poi la pagina del calcio di Serie B con questa intera pagina dedicata a Matteo Ciofani l'intervista al difensore del Pescara io antidivo che prega e sogna la Serie A la fede non mi ha fatto perdere la retta via il rinnovo ci spero tra l'altro venerdì prossimo ci sarà la sfida tutta in famiglia tra i fratelli Ciofani Matteo difensore del Pescara Daniel attaccante della Cremonese ospite allo stadio Adriatico e Biancazzurri che approfittano della sosta per una cena Canti e Belli il Delfino cresce a tavola la Serie C Teramo all'esame Ternana l'ASIC possiamo farcela il diavolo domenica contro la vice capolista che in trasferta ha perso solo una volta il centrocampista slovacco dice gara dura ma siamo consapevoli della nostra forza e vediamo allora questa sfida ai raggi X tra Teramo e Ternana Teramo 21 punti Ternana 29 in casa i biancorossi hanno ottenuto 5 vittorie 2 pareggi mai sconfitti la Ternana in casa 4 vittorie 1 pareggio e 2 sconfitte in trasferta il Teramo è andato piuttosto male con una sola vittoria 1 pareggio e 5 sconfitte invece la Ternana ha fatto molto bene lontano da liberati con 5 vittorie 1 pareggio e 1 sconfitta i punti raccolti in casa 17 dal Teramo 13 dalla Ternana fuori casa il Teramo ha messo in cascina solo 4 punti 16 la Ternana la media punti dei biancorossi di 1 punto e mezzo a partita 2 07 per gli Umbri i gol in casa 13 fatti dal Teramo e 6 subiti 9 quelli segnati dalla Ternana 7 subiti in trasferta 5 gol per il Teramo realizzati 11 subiti 11 invece realizzati dalla Ternana 7 subiti giocatori a segno 7 nel Teramo 8 nella Fernana il miglior marcatore del Teramo e Bombaggi con 5 reti nella Ternana il Bomber e Ferrante anche lui con 5 gol il giocatore più utilizzato nel Teramo Tomei 1260 minuti nella Ternana Mammarella ex Lanciano abruzzese di Pescara con 1100 minuti parliamo ancora di Lega Pro perché ad Avezzano è stato presente il presidente della Lega Pro Ghirelli che dice punire i dirigenti che fanno sparire i club il presidente ha incontrato gli studenti ad Avezzano lista nera per chi fa fallire le società vediamo anche la pagina relativa alla serie D Nero Verdi in crisi Grandoni va avanti Chieti trasforma i fischi in applausi l'allenatore allontana le voci di un possibile esonero Brocco Pineto e Quarti un traguardo storico dopo la vittoria in Coppa Italia a Sassari con la Torres Rachini avanza anche in Coppa Giulianova Suriano che il dubbio Cipriani Ramqui in vista della trasferta di Iesi la vastese perde Pollace Amelia pensa a Perocchia senza pesante in difesa in vista della gara di domenica all'Aragona con i marchigiani del Porto Sant'Elpidio e poi l'Avezzano contro gli ex Ferrante e Di Nicola domenica prossima al Dei Marsi ci sarà il Montegiorgio la squadra del momento e ovviamente il notaresco capolista del Girone F con Sansovini che sfida l'ex amico amico comunque fuori dal campo ma non domenica Emanuele Cascione entrambi ex Pescara con Sansovini che guiderà il notaresco contro il Cattolica allenato proprio da Cascione andiamo a vedere l'altra pagina di Esport del centro partiamo dalla parte alta della pagina calcio a 5 di Serie A questa sera in campo Acqua e Sapone Color Max e poi Ilianciano sfida Montani De Vincenti Svincoio eccellenza i Frentani verso la gara con il Sambuceto allenato dall'ex Rosso Nero Fabio Montani rugby femminile Little Donne all'Aquila si ferma la Serie A e poi calcio regionale di promozione rivoluzione sulle panchine il Miglianico a Naccarella Miternina e Ovidiana via Reinaldi e Di Felice andiamo a vedere anche la pagina del basket e degli sport vari Chieti aspetta Rimini e ritrova Simoncelli domani a Giulianova in anticipo il Giulianova in anticipo giocherà a Piacenza Teramo va a Porto Sant'Elpidio e poi Serie C Silver Pescara Basket senza freni Antoniana KO nel derby Pescara Basket che si impone per 87 a 52 Palla a volo di B1 della Balda va alla Virtus Orsogna parliamo anche di palla a mano di Serie A2 la nuova Teramo è rimaneggiata Lions Big Match con il Cus Palermo vediamo poi in basso altri due titoli altre due notizie basket in Serie A2 la Legione straniera il nuovo libro sul Roseto scritto dal collega Luca Maggitti e poi Atletica Leggera allievi Gran Sasso Teramo in evidenza nella specialità dei lanci andiamo a vedere le pagine dello sport del quotidiano il messaggero vediamo la prima Pescara Mani su Charpentier il blitz del direttore sportivo Bocchetti accordo per prendere il bomber francese dell'Avellino sarebbe già chiusa la trattativa una punta centrale di un metro e novanta già messi a segno cinque gol in Lega Pro intanto parla Brunori il magic moment del Pescara il gol contano le vittorie Brunori ancora a secco di gol ma il Pescara ha il miglior attacco del campionato con 22 reti parliamo anche di volley Tegola per la capolista SIECO perché Marx è out l'opposto tedesco salterà la partita contro Bergamo il sostituto Carelli al debutto in A2 è andato però benissimo vediamo l'altra pagina di sport Teramo la SIC freme ora voglio giocare il centrocampista slovacco capò per due anni a causa di un infortunio Vastese Giorgi quel gol mi ripaga di tanti sacrifici il difensore 19enne ci attende un match difficile con il Porto Sant'Elpidio Avezzano il presidente Paris dice credo nei ragazzi e poi invece il basket Roseto Oliva non ho mai pensato di mollare calcio a 5 Acqua e Sapone Color Max le sfide del turno di campionato con le due formazioni alla ricerca di importanti successi anche se in chiave opposta l'Acqua e Sapone per le zone alte della classifica e per il primato la Coro Marx cerca punti per la salvezza chiudiamo con le pagine dello sport del quotidiano la città prima di salutarci ecco la prima con l'articolo principale di pagina 33 dedicato al Teramo la SIC freme sto bene mi manca il ritmo lo slovacco ha perso posizioni nelle gerarchie del centrocampo ma io sono qui dice per giocare e intanto il diavolo sarà impegnato mercoledì 27 novembre allo stadio Franchi di Siena contro i bianconeri in Nepal c'è il passaggio ai quarti di finale della Coppa Italia partita che si giocherà in notturna alle 20 e 30 parliamo anche di basket Teramo a spicchi stop pesante nell'infrasettimanale sconfitta senza attenuanti contro il Farnese Campi Stirpe ora si torna in palestra a lavorare con umiltà lo spazio del CSI big match di giornata termina in parità tra Olimpia Mosciano e Biro Carni finisce 2-2 il Caffè Desartis Teramum aggancia il secondo posto parliamo anche di palla a mano la Lions Teramo sfida la capolista Cus Palermo per il primato in classifica noi siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi grazie come sempre per la cortese attenzione grazie a Claudio Di Giacomo per la regia appuntamento a domani sempre alle 8 con mattino 6 alle 14 invece la prima edizione del nostro telegiornale buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.